Buonasera a tutti voi, bentrovati, eccoci di nuovo insieme con l'informazione di Telemolise, l'ultimo appuntamento della giornata con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura di sanità perché oggi a Roma si è tenuta un'importante riunione tra regione, commissario per il settore sanitario e governo per discutere del piano di rientro dal deficit. Ebbene nel 2012 il debito della sanità del Molise è salito a 50 milioni di euro. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. È durato oltre tre ore il confronto sul piano di rientro dal deficit sanitario che si è tenuto oggi pomeriggio a Roma presso il Ministero dell'Economia. Hanno partecipato Bevere e Francesco Massicci in rappresentanza rispettivamente del Ministero della Salute e di quello dell'Economia. Mentre per la regione c'erano il commissario Adaccheta, nonché governatore Paolo Frattura, il subcommissario Nicola Rosato, il direttore generale della regione Antonio Francioni e alcuni dirigenti dell'assessorato alla sanità. Dalla verifica è scaturito che il deficit sanitario nel corso del 2012 è cresciuto di altri 20 milioni di euro superando in tal modo la soglia dei 50 milioni. Per questo i rappresentanti del Ministero hanno chiesto alla regione di reperire con urgenza i 55 milioni di euro dai fondi FAS già impegnati in altre opere da destinare al parziale ripiano del debito. La regione è stata anche sollecitata a rivedere, seppure in parte, i piani attuativi dell'ASREM sia sulle nuove tariffe recentemente applicate alle strutture convenzionate, sia soprattutto sulla riconversione degli ospedali di Agnone, Venafro e Larino. Intanto partono le lettere di licenziamento per 45 dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Alla fine sono 45 i dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso in procinto di perdere il posto di lavoro. Il Consiglio di amministrazione della struttura sanitaria ha deciso di far partire le lettere di licenziamento per le unità in esubero, un provvedimento spiegano dalla ex cattolica che si è reso necessario per il taglio dei posti letto da 180 a 129, ma necessario a salvaguardare la sopravvivenza del centro e degli oltre 400 lavoratori diretti più l'indotto. I licenziamenti diventeranno operativi alla fine di ottobre dopo un periodo di mobilità. Colpa di un decreto del 2011 dell'ex struttura commissariale sulla sanità in Molise spiegano i vertici della Fondazione con il quale sono stati ridotti a 129 i posti letto. Una decisione che ha abbassato le entrate della ex cattolica, aggiungono dal Consiglio di amministrazione, è che nonostante la riduzione operata nel frattempo sui costi di beni e servizi ha comportato necessariamente una riduzione del budget per il personale. Per la Fondazione Giovanni Paolo II i posti letto attuali implicano un esubero di oltre 50 infermieri, ma anche con i licenziamenti annunciati la struttura sanitaria ha confermato di essere in regola nel garantire i livelli di assistenza previsti dalla legge. La Fondazione ha chiamato in causa anche la regione Molise per non aver trovato fino a questo momento una soluzione alternativa per poter evitare i licenziamenti, anche se i tagli alla spesa sanitaria locale sono stati imposti dal Governo nazionale. Intanto però il nuovo piano sanitario regionale è fermo al palo, così come l'ipotesi di riorganizzare il settore integrando alla ex cattolica le attività e le funzioni dell'ospedale Cardarelli. La Fondazione ha proposto ai sindacati anche un accordo di solidarietà con una riduzione dello stipendio ai dipendenti, ma in grado di garantire a tutti il posto di lavoro. La proposta non è stata però accettata. La decisione di procedere con i licenziamenti è stata presa con grande sofferenza, hanno affermato i vertici della struttura, ma è servita a evitare di mettere in pericolo l'intera sopravvivenza del centro. I 45 lavoratori che si avviano a perdere il posto avranno comunque priorità assoluta in caso di nuove future assunzioni. Su questo punto c'è la promessa della stessa Fondazione. Giovedì alle 10.30 l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia ha convocato una riunione urgente per discutere proprio dei licenziamenti annunciati. E' proclamato lo stato di agitazione all'ITR di Pettoranello la mobilitazione del personale è scattata dopo la notizia secondo cui l'azienda avrebbe regolarmente pagato gli stipendi ai dipendenti dell'Albisetti, mentre per i dipendenti TR la scadenza ancora non viene rispettata. Grande attesa tra i lavoratori per l'incontro di domani in regione, tra l'assessore Scarabeo, i sindacati e i fasonisti. Dopo l'incontro a Campobasso è prevista un'assemblea del personale per decidere cosa fare. Il comitato direttivo della CGL ha eletto Sandro del fattore nuovo segretario regionale del sindacato. Del fattore che arriva da fuori regione e che attualmente ricopre a Roma l'incarico di responsabile delle politiche del welfare della CGL nazionale è stato scelto su proposta diretta della segreteria. La votazione del comitato direttivo si è così conclusa con un verdetto a stragrande maggioranza. 47 voti favorevoli, 3 astenuti e un contrario. Il nuovo segretario prende il posto di Arminia Mignelli che si era dimessa il mese scorso. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, in particolare della rapina avvenuta questa mattina all'ufficio postale di Civitanova. Vediamo il servizio di Sergio Di Vincenzo. Un colpo studiato nei minimi dettagli. I due rapinatori, armati di un fucile a canne mozze e di una pistola, sono entrati nell'ufficio postale di Civitanova una manciata di minuti dopo la consegna dei soldi per pagare le pensioni ImpDap. Si parla di circa 25.000 euro. In quel momento, oltre al direttore, c'erano alcuni clienti in coda allo sportello. A uno di loro, un piccolo imprenditore del posto, gli è stata puntata la pistola contro. Presi i soldi, sono scappati a piedi lungo la scalinata di Via Roma, raggiungendo la circonvallazione. Ad attenderli c'era un complice alla guida di una croma risultata rubata. È stata abbandonata nelle vicinanze del cimitero. Hanno continuato la fuga su una seconda auto, forse guidata da un quarto complice, presumibilmente sulla trignina, tra i primi ad accorrere all'ufficio postale il vigile urbano del paese. Ho visto due persone di spalle correre, allora ho pensato di raggiungere subito la mia macchina per andare giù al paese dove ero sicuro che avevano la macchina. Difatti era così. Mi fare i tornanti che loro avevano fatto prima di me, sono arrivati sotto la circonvallazione all'altezza del cimitero e hanno sostituito la macchina che tra l'altro risulta rubata da diverso tempo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Bagnoli del Trigno e della compagnia di Agnone, coordinati dal comandante Campobasso. Sul posto anche gli agenti della polizia postale di Sernia. Individuare i rapinatori non sarà facile, si sono coperti il volto con il cappuccio. Ne sono presenti telecamere nel piccolo ufficio postale dove tra l'altro non si erano mai verificati episodi del genere. Stando alle prime testimonianze raccolte si parla di una persona bassa e robusta e di una più alta e magra. Il primo indossava una camicia chiara e un gilet, il secondo una maglietta bianca. Le forze dell'ordine hanno attivato numerosi posti di blocco ma almeno per ora non ci sono tracce. Nel frattempo si raccolgono altre testimonianze in paese. Qualcuno potrebbe aver visto bene in faccia i rapinatori pochi istanti prima o subito dopo il colpo. Torniamo ora alla politica. Adriana Izzi e il suo avvocato Vincenzo Iacovino hanno contestato la decisione del TAR sulla questione che riguarda l'entrata delle donne in giunta regionale annunciando che faranno ricorso al Consiglio di Stato e perfino agli organismi internazionali. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Amareggiata e sconcertata per la decisione del TAR che ha rigettato il suo ricorso elettorale presentato contro la giunta regionale di Paolo Frattura tutta al maschile ma l'indomabile Adriana Izzi non si piega e annuncia con parole forti che andrà fino in fondo costi quel che costi. Non mi piace dire contesto. Non la condivido perché mi sembra fondata su ragioni tutto sommato non in linea con altre con sentenze e comunque pronuncia di TAR di tutto il contesto nazionale. Mi dispiace che in Italia non ci sia il vincolo a che le sentenze già passate in giudicato facciano giurisprudenza in qualche misura. Però il concetto della presenza di genere negli organismi decisionali è ampiamente metabolizzato in tutte le regioni d'Italia. Mi offende da cittadina molisana non tanto il risultato del ricorso che mi lascia profondamente sconcertata ma è la prima puntata poi quindi vedremo il resto, il seguito, ma mi offende come cittadina molisana questa discriminazione in negativo. Io pensavo veramente mutuando da un titolo di un libro assai bello e significativo titolato Cristo si è fermato a Eboli. No, in termini di questa fattispecie Cristo si è fermato a Campobasso perché qui evidentemente non si riconosce il diritto all'altra metà del cielo. Me ne vergogno molto ma in questo momento mi viene in mente e quindi pur nella vergogna devo dare voce al mio pensiero, noi parliamo a livello nazionale e internazionale di violenza di genere, di violenza sulle donne fondamentalmente, ma come ho avuto modo di esprimere anche in altre situazioni, la violenza forse finisce col femminicidio ma comincia nel momento in cui alle donne vengono negati dei diritti oggettivi. In questo momento vorrei non essere nata in Molise, vorrei non essere appassionatamente legata a questa terra. Intanto però il Presidente Frattura ha preannunciato che modificherà lo statuto per riconoscere la parità di genere. E che debbo dire, risponderò con un'espressione latina, ho portet ut scandala eveniant, se questo farà ne menerò grandissimo vanto. Duri anche gli interventi dei suoi difensori Vincenzo Fiorini e Vincenzo Iacovino soprattutto contro il tal del Molise. Io ho sempre rispettato le decisioni dei magistrati ma questa non la voglio rispettare. Non la voglio rispettare perché c'è stata una decisione che ci lascia molto perplessi perché dire che un precetto costituzionale ha valore programmatico e fermo restando che la sentenza è un'opinione, io dico che questa è un'opinione assolutamente isolata. È come dire che il sudore e il sangue che hanno buttato quelli che hanno fatto la carta costituzionale a un certo punto non hanno valore. Paolo Frattura, siccome lo conosco, è una persona amabile e mi sembrava strano che non rispettasse quest'impegno. Apprendere che lui rispetterà quest'impegno conferma il rispetto che ho per questa persona. La prima commissione del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza la legge proposta dal governatore Paolo Frattura e dal presidente dell'assise di Palazzo Moffa Vincenzo Niro che riduce le indennità dei consiglieri e il finanziamento ai gruppi. Hanno votato a favore Francesco Totaro, Nunzia Lattanzio e Cristiano Di Pietro per il centro-sinistra, mentre si sono astenuti i due rappresentanti della minoranza, Nicola Cavaliere e Salvatore Micone. Lunedì prossimo la proposta che recepisce il decreto Monti sulla riduzione dei costi della politica verrà discussa in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il Comitato regionale anticorruzione presieduto da Vincenzo Musacchio ha elaborato una proposta di legge per contenere la spesa per i gruppi regionali, gli assessori e i gruppi consigliari come imposto dal decreto 174 del governo Monti. In particolare il provvedimento disciplina tra le altre materie anche il riordino di enti e società regionali e l'abolizione dei cosiddetti portaborse. Ora andiamo al Comune di Sernia dove si è riunito il Consiglio Comunale alle prese con le linee programmatiche del Sindaco Brasiello. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Seduta tranquilla del Consiglio Comunale a Palazzo San Francesco, si è discusso sulle dichiarazioni programmatiche del Sindaco Brasiello e da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, si è badato a costruire più che a polemizzare. Unica nota da segnalare è l'intervento di Gianni Fantozzi su alcuni pagamenti disposti dal Comune. Per il consigliere di Grande Sud, Palazzo San Francesco non avrebbe rispettato la graduatoria temporale delle richieste di pagamento. Immediata la risposta della maggioranza con Sergio Sardelli del Partito Democratico. Dovrebbe essere buona amministrazione quello di fare un rendiconto di quello che è la massa passiva del Comune di tutti i crediti mandati, mettersi al tavolino e vedere immediatamente quali sono le risorse dalle quali altingere i fonti e portarli in Consiglio Comunale e fare un'operazione generalizzata, non prendere dal sacco uno soltanto perché minaccia di fare l'azione giudiziaria. Se io dicessi a tutti i creditori del Comune, ne sono tanti, fate le azioni giudiziarie, che succederebbe? Che tutti quanti questi qua dovrebbero essere pagati. E allora non è questa la via giusta, la via giusta è quella che ho indicato io. Quindi ci vuole una ricognizione di tutti i debiti, portarli in Consiglio e verificare le fonti da quale attingere per poter pagare tutti. Non voleva essere una polemica perché sicuramente il consigliere Fantozzi avrà saputo cogliere nella mia osservazione non una nota critica polemica ma un semplice dato oggettivo, l'esplicazione di un dato oggettivo. La pubblica amministrazione precedente, il sindaco Melogli ha governato questa città per dieci anni, ma non che sia colpa personale del sindaco Melogli, è una pubblica amministrazione, si governa per dieci anni, esistono crediti, debiti, è ovvio che la responsabilità quantomeno politica non sia dell'attuale sindaco Brasiello. Anzi, mi aspetto che il consigliere Fantozzi, come tutti gli altri, collaborino per risolvere al più presto tutti. Un primo intervento è stato già fatto concreto da parte del sindaco Brasiello che si è attivato per reperire fondi e se non sbaglio sono stati già pagati i primi fornitori o se non sono stati già pagati lo saranno a breve. E dal Consiglio Comunale di Sernia a quello di Campobasso dove oggi è stata respinta la mozione presentata dall'opposizione che chiedeva la revoca della delibera di giunta sulla vendita della farmacia comunale di Via Calabria. Dopo un lungo e acceso dibattito la maggioranza di Palazzo San Giorgio ha respinto dunque la richiesta del centrosinistra a sostenere la mozione oltre all'opposizione anche i consiglieri dell'Udeur. La minoranza contesta la procedura seguita dalla giunta per gestire la vendita della farmacia per la quale ha stabilito un ribasso del prezzo d'asta del 25%. Per il consigliere del PD Antonio Battista si tratta di un grave errore. La modifica del prezzo andava necessariamente decisa dal Consiglio Comunale. Ora torniamo sulla crona che parliamo degli atti vandalici che si sono verificati nella notte nella sede dell'azienda sanitaria regionale. Sentiamo Manuela Iorio. Porte scardinate, uffici messi a soquadro, chiusure di armadietti e cassetti forzate, furto o vandali. Per il momento negli uffici dell'Asrem a Termoli sembra non mancare nulla a parte una radiolina. Computer e stampanti sono rimasti al loro posto. Non sono nemmeno stati presi farmaci o altri presidi sanitari presenti nella struttura. È per questo che il colpo notturno nel palazzo di Via del Molinello alimenta diversi sospetti. E cioè che in realtà chi è entrato negli uffici del secondo piano e li ha messi a soquadro, compreso l'archivio, forse cercava qualcos'altro, probabilmente documenti. Sarà difficile capire nell'immediato se manca qualcosa, anche perché i malviventi hanno sparso sul pavimento centinaia e centinaia di fogli. Messi a soquadro anche gli uffici dei veterinari, dell'assistenza medica e della medicina di base. Ma l'attenzione di chi indaga ora si concentra soprattutto sui locali dell'amministrazione e dell'archivio. Intanto i dipendenti per iniziare il turno hanno dovuto attendere l'arrivo della polizia che ha effettuato tutti i rilievi a caccia di possibili impronte. Gli agenti stanno visionando anche i filmati della videosorveglianza. Il ministro dell'integrazione Cecil Kienge potrebbe arrivare presto in Molise per presentare il progetto di accoglienza per i migranti su cui la regione è impegnata insieme al Viminale. L'invito è arrivato dall'assessore alle politiche sociali Michele Petraroia che ha anche espresso solidarietà al ministro per le parole del vicepresidente del Senato Calderoli. Basta sprechi di Stato, basta tasse per pagarli. Questa è l'iniziativa lanciata in tutta Italia dal Movimento Fare per fermare il declino. Una campagna di volantinaggio per dire basta agli sprechi di Stato e basta alle tasse per pagarli. L'iniziativa è partita in tutta Italia e promossa ad Affare per fermare il declino, movimento preseduto dall'economista Michele Boldrin dopo la parentesi finita male di Oscar Giannino. Il coordinamento del Molise ha scelto per il volantinaggio la sede di Campobasso dell'Agenzia delle Entrate. L'iniziativa parte da un'analisi che è stata effettuata, che la spesa pubblica viene persa in mille rivoli, in mille sprechi da parte dell'intera pubblica amministrazione e da questa classe dirigente nazionale che non ha fatto altro che depauperare i beni dello Stato italiano. Il caso all'Italia a livello nazionale, a livello regionale, Zuccherificio, Solacrital non fa altro che dimostrare come soldi pubblici spessi male e con dei risultati veramente negativi. E fare per fermare il declino spiega così la scelta della manifestazione davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Perché rappresenta un po' lo Stato che chiede soldi ai cittadini. Il 16, perché di solito il 16 è il giorno di pagamento dell'F24. Non ci dimentichiamo che oggi vengono presentate anche le dichiarazioni dei redditi ed è una giornata molto significativa. Noi ogni 16 del mese, scusate quello di agosto, saremo in piazza davanti all'Agenzia delle Entrate o altri riferimenti importanti per dire ancora basta aiuti di Stato, basta sprechi di Stato, basta tasse per pagarli. Allora parliamo invece del suo movimento che si è riorganizzato dopo l'ultima tornata elettorale, in che modo? A maggio abbiamo fatto un congresso nazionale dove è stato eletto Michele Boldrin, coordinatore nazionale, l'economista che vive fra la Spagna e gli Stati Uniti, di origine italiana e che ha deciso di impegnarsi a fondo in questo movimento. Abbiamo eletto 20 coordinatori regionali, 24 persone in direzione nazionale, aprendo tavoli tematici aperti a tutte le forze liberali e riformiste di questo paese. E ora voltiamo pagina, giornata di esercitazioni oggi alla base di Campochiaro dell'Agenzia regionale della protezione civile, vediamo il servizio di Tonino Danese. Il Molise è regione montuosa con zone impervie e difficili da raggiungere in alcuni punti, i soccorritori in caso di emergenza devono essere pronti ad agire e operare anche in condizioni di estrema difficoltà e per farlo c'è bisogno di preparazione fisica e conoscenza dei posti. Ecco il perché dell'esercitazione effettuata nella base di Campochiaro dell'Agenzia regionale di protezione civile dal soccorso alpino e speleologico del Molise con gli elicotteri dell'aureonautica militare del nono stormo di Grazianise. Operazioni complesse eseguite con perizia in una struttura che è un fiore all'occhiello e che spicca a livello nazionale, sbarco e imbarco di personale del soccorso con verricello per prendere feriti con barella, ricerca persone con l'ausilio di apparecchiature sofisticate, altre manovre ancora, l'aeronautica è in grado di agire anche durante la notte con appositi visori. Tali operazioni sono necessarie soprattutto in una regione come il Molise in cui i comuni, prevalentemente montuosa, in cui i comuni non dispongono di una base, di una elisuperficie adatta all'atterraggio del mezzo del veicolo elicottero pattini a terra. In questa maniera riusciamo a sbarcare e imbarcare non solo personale tecnico del soccorso alpino, ma anche personale sanitario e soprattutto ad imbarcare un eventuale ferito con una barella tramite il gancio o verricello da qualsiasi posizione della regione. Un'esercitazione per rendere i soccorsi dunque sempre più tempestivi ed efficaci in sinergia con le altre forze in campo quando si presenta un'emergenza non solo sul nostro territorio regionale ma ovunque. Stiamo facendo un'esercitazione con il nonno stormo di Grazia Nise dell'Aeronautica Militare in ottemperanza una convenzione che abbiamo da circa dieci anni proprio con il Ministero della Difesa. Questa convenzione serve per creare le sinergie adatte a svolgere operazioni con aeree mobili dell'Aeronautica Militare in ambiente impervio, quindi anche dove non è possibile far atterrare l'elicottero pattini a terra. Apriamo la pagina degli spettacoli e andiamo a Termoli dove è stata presentata la terza edizione della Notte Blu. Sport e musica concentrati in un'unica notte, quella del 19 luglio per la terza edizione della Notte Blu organizzata dal Comune di Termoli e dall'Associazione Create. Quest'anno tante novità a partire dal luogo, si abbandonano le vie del centro e ci si sposta sui due lungomare. Una novità che ha permesso di coinvolgere anche i balneatori e che poi ha spinto l'amministrazione a scegliere come giorno il venerdì e non più il sabato. Tanti gli sport, dalla danza alla box, dal karate agli scacchi, dal beach tennis al beach volley, dalla dama al calcio. I palchi si concentreranno sul lungomare Cristoforo Colombo che per l'occasione sarà chiuso al traffico per tutta la giornata di venerdì, dalla rotonda del Mistral fino a quella del Sirena Beach. Solo una corsia sarà lasciata aperta per le emergenze e per permettere ai residenti di raggiungere le abitazioni sul litorale. Per ovviare i possibili disagi anche per i turisti, l'amministrazione ha deciso per quel giorno di potenziare il servizio navetta per il mare con partenza ogni 20 minuti dal parcheggio del cimitero. Tanta musica, concerti, DJ set e balli invece saranno organizzati nei lidi che hanno aderito all'iniziativa. La serata inizierà alle 21.30 ma già dalle 17.30 si partirà con un mini torneo di calcio allo stadio per la partita della solidarietà e poi musica, sport e divertimento fino all'alba. Il sindaco Antonio Di Brino e l'assessore Michele Cocomazzi hanno sottolineato l'importanza di scegliere i due lungomare come location per la notte blu con l'intento di valorizzare il passeggio sul litorale come avviene in tutte le città turistiche. Bene tutto anche per l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra informazione, informazione che come sempre torna in diretta domattina alle ore 7 in punto con il Tg e naturalmente con la nostra rassegna stampa. Per il momento è tutto, buonanotte a tutti voi. Grazie per la visione! Grazie per la visione!